Si può uscire dall'Europa, sì o no? Si deve uscire dall'Europa. E si può fare? E attenzione, dall'Europa non inteso come continente, inteso come euro, soprattutto. Come moneta. Come moneta che è la catena che ci tiene legati a quell'orrore, a quella supergabbia in cui siamo andati a finire senza neanche accorgersi. Come si fa? Come si fa è abbastanza semplice, nonostante tutto il terrorismo che viene fatto per spaventarci e che porta come conseguenza che noi, che siamo il paese più becco d'Europa, perché siamo gli unici a essere in crisi e pagare gli altri. Faccio solo un esempio. Il Portogallo ha ricevuto 67 miliardi di euro dall'Europa, che è il 50% del PIL. Quindi significa come se noi, per tenerci dentro, per non farci saltare definitivamente, ricevessimo 750 miliardi. Con 750 miliardi secondo me facciamo le strade d'oro, altro che la disoccupazione. Invece noi paghiamo, noi paghiamo 50 miliardi per i fondi salvastati che vanno ad altri paesi e invece stiamo qui a combattere per 2 miliardi di IMU e così via. Dobbiamo chiedere permesso all'Europa per far fronte alla Sardegna. Dobbiamo una volta, e io ero a Olbia, quindi qualcosa l'ho visto di persona purtroppo, l'ho scampata bella, e il pensiero di dover andare a pietire all'Europa dei soldi per un disastro come quello della Sardegna a me fa orrore, fa orrore, con tutto quello che paghiamo, perché poi se fossimo della gente che chiede, invece siamo della gente che dà, che dà e basta, e da quest'Europa non riceve nulla. Ora, come si fa a uscire? È molto semplice, la legge è la stessa con cui noi abbiamo cambiato dalla lira, siamo passati all'euro. Si applica la stessa tipo di legislazione, con un decreto, di notte, si passa con un cambio uno a uno, quindi la nuova moneta, non chiamiamola lira, chiamiamola fiorino, chiamiamola come ci piace, chiamiamola tallero, e verrà cambiata uno a uno, quindi non ci accorgeremo neanche del cambiamento, riceveremo gli stessi stipendi e non c'è neanche bisogno di cambiare cartellini. L'unica cosa che cambierà sarà il tasso di cambio di questa moneta nei confronti delle altre valute, e questo cosa succede? Ci consentirà di uscire e di recuperare tutto quello che abbiamo perso in termini di competitività in questa gabbia europea di questi anni, in modo tale da poter continuare a far sì che i nostri prodotti diventeranno convenienti anche per noi, e allora l'imprenditore incredibilmente si renderà conto che avrà domanda, avrà gente che chiederà i suoi prodotti, perché diventeranno più convenienti, non saranno più fuori mercato come sono adesso. Tutti si domandano, ma cos'è la tassazione? Sì, la tassazione, ma prima devi vendere i tuoi prodotti, se sei fuori mercato del 20%, perché la tua moneta è sbagliata del 20%, i tuoi prodotti non li compra nessuno. Claudio, e noi da qui alle elezioni europee insisteremo molto per far capire che l'euro non è quella cosa che ci hanno raccontato in tutti questi anni.